Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio nuovo vlog, sarà velocemente il video di Dronosa. Non so se si potrà fare, ma sotto il link in descrizione troverete i film di Cattivissima V2. E se posso farci un secondo e terzo vlog, con la descrizione di Lera Graciale 4. Se volete ragazzi lasciare un tuo commento, mi piace e scusatevi a questo breve video. Dio.